Una nuova attività in Garbagnate milanese, chi entra in questo negozio e cosa troverà? E allora accessori in moda, quindi borse, cappelli, stole, guanti e per la stagione estiva ovviamente borse, parei e tutto quello che riguarda la moda. Il negozio si divide in due parti, ci sarà anche la parte artigianale che creo bijoux su misura e tutto quello che può votare intorno alla moda, quindi possono essere anche segnalibri, portachiavi, tutto quello che la fantasia mi darà la possibilità di creare. E aspettiamo allora tutti i garbagnatesi e non solo le garbagnatesi, sono tutti ben accettati. Grazie, grazie, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.